Incidente aereo spiorato in Giappone, un Airbus di Esiana Airlines è uscito di pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Hiroshima, causando il ferimento non grave di circa 20 persone su di un'ottantina di passeggeri. Una parte dell'aereo ha toccato la pista durante l'atterraggio causando un faccio di scintille. Un volo a Siana si era schiantato due anni fa a San Francisco. Tre, i morti.